Siamo al Colombatto e finalmente oggi torneranno i nostri ragazzi. Questa è la cosa che ci fa più felici dopo un momento difficile. Abbiamo lavorato tanto per mettere in sicurezza la scuola e per attivare tutti i percorsi e le procedure previste dai protocolli. Alcuni siamo andati oltre il protocollo per essere certi che i nostri ragazzi possono rientrare nella massima sicurezza rispettando le distanze. Abbiamo installato il controllo delle temperature, abbiamo installato la segnaletica verticale e orizzontale, abbiamo creato dei nuovi percorsi di entrata ed uscita, abbiamo migliorato al massimo quello che può essere il distanziamento e il rispetto delle distanze e dei protocolli dell'industria delle mascherine che sono arrivate e che forniremo a tutti quanti quelli che entrano in istituto. Speriamo che tutto si possa svolgere al meglio, speriamo che i nostri ragazzi possano comunque avere questo senso di normalità dato da questo esame in presenza dopo tanti mesi passati da casa e dove il contatto è stato costante con i docenti per far sì che arrivassero preparati, ma chiaramente è mancato un po' il rapporto umano diretto che oggi ritroveranno con la Commissione, con i presidenti. Auguriamo a loro tanta fortuna e un ottimo esame.